Sono Stefano Torre della Infone di Piacenza che produce il famoso sito internet Lado Rebellente. La zeta è stata fondata nel 1642 da un mio amo che vedeva molto molto lontano e odiava i ladai che da noi neanche provano ad entrare. Perché il ladro cosa fa? Guarda le tapparelle e se le vede sempre chiuse allora vuol dire che siamo al mare e tac viene e ci ruba tutti. Ma i nostri siti no, sono più furbi dei ladri. aprono e chiudono le tapparelle quando non ci siamo. Infonet, siti, internet, ladro, repellente. Siamo partner di Google e che garantisce elevati standard del nostro lavoro. Arrivederci.